Abbiamo il nostro I Believe I Can Fly Andremo a fare un equipaggiatore intelligente Diciamo che è un letto smart Attivati il portale, ok Infatti non ci sono slime Come sempre quando vogliamo che sia notte è giorno E quando vogliamo che è giorno è sempre notte E vado a morire fuori Guardate ragazzi, quando vogliamo i mob non c'è assolutamente nessuno Anche se è notte Ciao a tutti ragazzi, io sono Suri Benvenuti nel 136esimo e più era la SuriCraft Nello scorso episodio abbiamo fatto la super armatura E la seconda armatura, oltre a questa qua E oggi andrò ad ascoltare molti dei consigli che mi avete dato Nello scorso episodio Infatti lo scorso episodio ho avuto tantissimi commenti Se non sbaglio è stato uno degli episodi con più commenti possibili E avevo chiesto appunto di darmi i consigli per come rinominare la spada Questa qua che era super potente E qualcuno mi ha consigliato anche qualche nome peraltro Intanto sabato c'è stata una live Ho provato a fare una live nella SuriCraft Abbiamo aggiustato l'ascensore che è questo qua Nella 1.11 pre 1 Si era diciamo leggermente modificato l'impostazione dei repeater L'abbiamo aggiustato e siamo andati un po' in giro Poi per aggiornare l'isola degli iscritti ho dovuto farmare anche delle ossa E mi sa che mentre farmavo le ossa Erroneamente ho buttato via l'altro arco Perché quando si farmano ossa I troppi dei mob sono archi, armature, incantate E per sbaglio mi sa che ho buttato il nostro altro arco Che era super potente E mi è rimasto solo questo qua quello per volare Ma non dovrebbe essere un problema perché ho già trovato un po' di archi Allora qua c'è un power infinity Eccolo qua Questi due volevo unire per creare l'altro arco Vediamo un po' Unbreaking 3, power 4 e punch 2 Unandolo con questo dovrebbe avere unbreaking in più mending Punch dovrebbe rimanere il 2 E power dovrebbe diventare 4 Giusto? Se non sbaglio c'è un power 4? Si E questo ha anche infinity volendo possiamo mettercelo E infatti ce lo metterò Poi mending dovremmo averlo Nei libri qua da qualche parte dovremmo avere anche mending E ce lo metterò E altre cose Non penso Dovrebbe essere tutto a posto Il resto Ok E mi sono arrivati due commenti principalmente Che ho scelto Per dare i nomi alla spada Però prima partiamo dall'Elytra Che mi è stato consigliato di rinominarlo In I believe I can fly Da Alessandro Tagliafierro Quindi questo nome è molto molto divertente diciamo E ha raggiunto anche 35 mi piace se non sbaglio Quindi andiamo a rinominarlo I believe I can fly Lo rinomino così Vediamo così Eccolo qua Col punto esclamativo finale Abbiamo il nostro I believe I can fly Perfetto Il nostro primo Elytra è rinominato col nuovo nome Per rinominare la spada ci sono due commenti diciamo Il primo è di Aderflash Che mi è consigliato siccome il mio nome è su Riva Al contrario si diventa Virus Di chiamarla Virus Sword E l'altro commento invece che ha ricevuto anche quello di tanti mi piace È di Marco Costanzo Che mi dice di chiamarla Ex-Suriv-Bur Un po' come Excalibur Scritto così Ex-Suriv-Bur Così Quindi adesso scrivetemi nei commenti tra questi due nomi cosa scegliere Magari lascerò anche qua in alto a destra Un sondaggio su quale scegliere tra questi nomi qua E nel prossimo andrò a rinominare anche la spada Intanto vado ad unire questi archi qua Vediamo un po' Allora Power 4 Quindi il massimo è Power 4 No perché non era questo Eccolo qua Power 5 Andiamo a farlo 17 livelli E così 21 Andiamo a farlo con 17 Ok E Infinity Perfetto Unbreaking Power Punch Mending E Infinity Dovrebbe essere tutto a posto Mending ce l'ha già Anzi non mi ricordavo più Quindi abbiamo di nuovo il nostro arco Diciamo per combattere Non ha Flame Ecco cosa ci manca Vediamo un po' se c'è da qualche parte Flame Ma eccolo qua Perfetto Neanche farlo apposta 5 livelli E avrà anche Flame Perfetto Quindi lo tengo qua nell'inventario 5 livelli li faremo presto Così mi ricordo che devo mettercelo su Intanto iniziamo subito con l'episodio di oggi Come avrete letto dal titolo Andremo a fare un equipaggiatore intelligente Esatto Ci ho lavorato un po' off camera Nel mondo in creativa E sono riuscito ad arrivare a un design Che ci permette di trasformare questo letto qua In un equipaggiatore automatico Intelligente Cioè cosa voglio dire con questa cosa E noi ci stai viva da creare un equipaggiatore Che quando noi moriamo Ci ridà tutto l'equipaggiamento Il secondo equipaggiamento Che abbiamo lì dentro Alla nostra Sugar box Per poi poterci equipaggiare E uscire E andare a riprendersi Il nostro primo equipaggiamento Magari da dei mob Che ce l'hanno rubato O cose simili Quindi A che design sono arrivato? In poche parole Sono arrivato un design Che Se noi dormiamo E siamo stati noi a dormire Diciamo Questo equipaggiatore non ci ridà proprio niente Ma se Noi siamo morti E rispawniamo in questo punto Perché quando moriamo Rispawniamo dove c'è il nostro ultimo letto Quindi rispawneremmo qui Il sistema capisce che noi siamo morti E prima di farci uscire da questo punto qua Ci riequipaggia automaticamente E andrò a modificare anche tutto questo design In quale Ad esempio dormo Mi alzo Senza far passare la nota E vedete che ci scaraventa fuori da questa parte Sarà tutto uguale A parte che Farò una piccola modifica nel Risalire da qua E saliremo riequipaggiati Solo se siamo rispawnati nel letto Causa di una morte da un mob Per spiegarvi tutto questo Vado nel mondo in creativi Vi faccio vedere cosa E' uscito fuori dal nostro Meccanismo di redstone Che andremo a fare oggi E poi andremo a fare tutte le modifiche A questo letto automatico Per renderlo anche Equipaggiatore Letto automatico Intelligente Barra tutte le cose che volete Comunque andando da questa parte Tutto il meccanismo Che ci faceva saltare fuori dal letto Ma lo andrò a modificare Così come ho fatto di recente Il redstone tutorial Per la stanza del letto Perché come vi ho già detto Questo segnale qua della stringa Andava a tutti i meccanismi Cioè sia Al farci scendere Sia al farci andare avanti Sia di là A farci saltare Da questa parte Su Per poi portarci sopra Al nostro La piattaforma diciamo Però adesso andrò a modificare Anche questa cosa qua Rendendola un po' più semplice Ma prima Ci rivediamo nel mondo In creativa Intanto si è fatto Il giorno I denti si sono chiusi Ok Ci rivediamo nel mondo in creativa Per farvi vedere il nuovo meccanismo Che andremo a fare qui Ok Rieccoci nel nostro mondo In creativa Adesso vado a farvi vedere Che vado qua dentro Nel nostro normale letto Vado a dormire Non è notte Giustamente Facciamo un bel time set night Ok Quindi adesso dormo E mi rialzerò Che sarà giorno Automaticamente Non schiaccio niente Vediamo un po' Eccoci qua Non ho l'equipaggiamento Addosso E siamo risvegliati Senza equipaggiamento Appunto perché ero andato Io a dormire Ma mettiamo che io Muoio Per qualsiasi causa Facciamo un slash Non lo so Kill Dovrebbe funzionare Vediamo un po' Se riesco a scriverlo Così Siamo morti Se faccio respawn Respawneremo lì Il sistema capirà Automaticamente Che noi siamo rispwnati Dopo una morte Guardate un po' Ecco qua Ci fa saltare Cosa è successo? Facciamo un slash Kill Perché non ha funzionato Sembra Ok Scendiamo qua Perfetto Eccoci qua Di nuovo Ma siamo riequipaggiati Con tutta l'armatura Perfetta Quindi questo sistema qua È intelligente Diciamo che è un letto smart E capisce se noi siamo rispwnati Lì sul letto Perché eravamo morti Oppure no Come ho fatto a fare questa cosa qua? Adesso ve la vado a spiegare Intanto mettiamo giorno Time set day Perfetto E adesso vi vado a spiegare il meccanismo Vi andrò a spiegare solo il meccanismo Della parte di riequipaggiamento Mentre la parte per quanto riguarda il letto E tutto il resto Se non sapete come funziona Vi rimando a Redstone Tutorial Che se mi ricordo anche questo Lo metterò adesso qua in alto a destra Oppure lo trovate Nella playlist dei Redstone Tutorial Dove vado a spiegare come funziona Questa stanza La cosa che ho implementato È questa stringa qua in più Quindi questa stringa cosa va a fare? A me serviva un meccanismo Che capisse che io sono arrivato da questa parte E mi sono messo in questo punto E ho cliccato per dormire Quindi questa stringa qua Serve appunto a vedere questa cosa Se noi siamo arrivati da questa parte Per dormire noi manualmente Diciamo così Il sistema lo capisce E fa attivare una cosa Che poi andiamo a farvi vedere lì Mentre se noi respawniamo da morte Cioè da respawn sul letto E respawniamo esattamente in questo punto Quindi quella stringa lì Non la tocchiamo Tocchiamo solamente questa qua E toccando solamente questa qua Il sistema capisce che noi siamo appunto Respawnati senza essere arrivati da quella parte Quindi respawnati dopo essere morti Adesso il processo è uguale per entrambi Nel senso lì la botola sotto si apre Per questo meccanismo di qua Noi andiamo giù Questo sistema qua con la pressure plate Fa spingere la slime block Quindi andiamo in questo punto qua E da qua risaliamo Ma cosa va a fare quel sistema lì Che rileva Se noi stiamo arrivati da questa parte Va a posizionare quel blocco di redstone Più in basso di uno Infatti se mi avvicino qua sopra Adesso vediamo Ecco vedete che lì il pistone Si è esteso Perché qua è attaccato dietro esattamente il pistone Poi ci sono tutti gli slime block Per portare il segnale in verticale In basso E quando questo blocco di redstone Si trova in questo punto qua Qua c'è un estensore di impulso Quello semplicissimo Che funziona in questo modo qua Mettendo un comparatore di qua e uno di là Il segnale che viene dato viene prolungato nel tempo L'ho usato parecchie volte questo circuitino qua Quando gli viene dato un impulso Non si disattiva subito Ma si disattiva dopo un po' E noi possiamo ampliare questo tempo qua Facendo una cosa del genere Aumentando il numero appunto di repeater Anzi di comparatori Quindi se ne mettiamo tanti Noi accendiamo il segnale Poi lo spegniamo Ma non si spegne subito Ma ci impiega un po' di tempo a spegnersi E se noi mettessimo un blocco in questo punto qua Il tempo aumenta ancora Anzi raddoppia Prima di spegnersi completamente Vedete che sta attivo molto molto più tempo Rispetto a quello di prima Infatti è raddoppiato E si spegne adesso Si è impiegato un bel po' Come avete visto E questo tempo qua Che viene generato appunto Grazie a questa cosa qua Cioè quando noi passiamo sopra Questo pistone si estende Quindi il blocco di reazione si trova in questo punto qua Quando noi siamo già letto Questo qua si ritira E qua il sistema di ritenuta parte Questo tempo qua è il tempo necessario Per permetterci di dormire E arrivare da questa parte E salire sopra Perché cosa va a fare Va a bloccare questi dispenser Dispenser com'è che vengono attivati Vi spiego subito Quando noi atterriamo dall'alto Cadiamo giù e atterriamo qua Questo slime block ci spinge Noi passiamo sopra questa pressure plate qua Questa pressure plate è quella che fa azionare Sia il pistone qua per spingerci in alto Sia da questa parte Il sistema che diciamo fa ritrare il pistone E tutto il resto Come ho spiegato nel reazione tutorial del letto automatico Inoltre cosa ha fatto Sempre da questa pressure plate qua Ho ripreso il segnale Che va anche a tutti questi repeater qua Che poi vanno nei dispenser Ho messo tre dispenser di qua Si possono mettere tre da questa parte Solo uno di qua Perché di qua se ne mettevo un altro In questo punto qua Perché se andiamo qua dentro E se rompo un attimo Vediamo che ci sono tre dispenser in questo punto Tre da questa parte E qua ne ho messo solo uno Questa cosa appunto perché il dispenser Così come il pistone Subisce il bad Non è solo il pistone che subisce il bad Ma anche il dispenser Ad esempio se metto il dispenser qua Questo dispenser qua in realtà è attivo Infatti se ci metto dentro una cosa E aggiorno un blocco vicino In questo modo Vedete che la sputa fuori Perché il blocco in diagonale Ha energia Questa cosa nella 1.11 Dovrebbe essere risolta Ma dato che siamo ancora nella pre 1 Anche se questo video è uscito il 15 martedì E la 1.11 Dovrebbe essere uscita il 14 Cioè ieri lunedì E il bad non dovrebbe più funzionare Ma io per adesso lo faccio così Poi al massimo andrò a mettere anche altri dispenser qua Perché faceva da bad con il segnale che c'è qua del repeater Infatti era in diagonale E quindi faceva lo stesso da bad Anche se qua c'è uno slab Ma a parte questo Quindi stavo dicendo che Quando noi passiamo da questa parte Dopo 4 più 4 di tic Il pistone che ci fa saltare si attiva Ma prima Sempre dallo stesso segnale Noi prendiamo da questa parte Andiamo qua sopra E andiamo a tutti i dispenser Perché questo repeater qua con 4 di tic Anzi tutti hanno 4 di tic Va dentro a questo dispenser Quindi dà energia sia quello sotto che quello sopra Lo stesso da questa parte Dà energia a questo Ma anche quello sopra e quello sotto si attivano E di qua Dà energia a questo blocco E quindi si attiva anche questo dispenser Quindi dopo 4 tic Tutto l'equipaggiamento viene dispensato Dopo 8 tic Veniamo spinti fuori E qualsiasi sistema che poi si riposiziona in questo punto Quindi ricapitolando cosa succede Se noi andiamo da questa parte Passiamo attraverso la prima stringa Parte il sistema di blocco Cioè il sistema di blocco come funziona Ci sono questi comparatori messi in questo punto Che vanno all'interno di un blocco esattamente come qua E poi il segnale riparte indietro Da questo blocco qua noi prendiamo con una redstone E mandiamo dentro a un pistone Questo pistone cosa fa? Con questa lana o con questo blocco comunque Si posiziona in questo punto qua Questa cosa qua cosa va a fare? Blocca il segnale di redstone nel farlo salire Quindi quando c'è questo blocco è in questa posizione Il segnale viene tagliato Quindi quando noi passiamo sopra la pressure plate I dispenser non si attivano Mentre se noi siamo rispondati sul letto causa morte Questo blocco qua si trova in questa posizione Appunto perché non siamo passati per la prima stringa Ma direttamente sulla seconda Quindi questo blocco qua non è mai sceso E questo pistone si trova ritirato Quindi il segnale che si attiverà quando passeremo sulla pressure plate Andrà anche ai dispenser e ci farà equipaggiare Questo è il meccanismo che ho creato off camera Che adesso devo solamente andare a ricopiare Nella Suricraft andrò a scavare un bel po' Perché andrò a modificare tutto Quindi ci risentiamo tra un bel po' dopo che ho riportato tutti questi meccanismi nel nostro mondo A tra poco Piccolo problemino ragazzi Abbiamo finito le slime ball Infatti ne ho solo 16 e 15 Quindi faccio un salto alla farm di slime Così anche magari chi non l'ha mai vista la faccio vedere in un video E se neanche lì dovessero esserci farò un sistema più semplice per scendere con il segnale Non utilizzerò tutti quegli slime block Ma utilizzerò semplicemente una striscia di redstone che scende fino a giù Fino ai comparatori Quindi adesso andiamo alla farm di slime Ma dobbiamo andare nel nether Ho un po' di enderper Ma poso un po' di cose No potrei portarmelo anche indietro Vabbè Quindi per chi non lo sapesse dobbiamo andare nel nether Perché c'è un collegamento con il portale Scendiamo subito da questa parte Ok andiamo Così Ok il portale è acceso perché ero tornato tramite end Adesso si spegnerà Lo riattiviamo Attivati portale Ok Perfetto Andiamo nel nether Anzi andiamo nel nether Ok eccoci Saliamo su Andiamo da questa parte qua Sopra Ok cosa sta succedendo Ok lag di generazione forse Ok sta caricando Sopra ancora Andiamo sopra il tetto del nether Dove ho tutti i portali con i vari collegamenti Scendiamo tramite enderper Perché non ho ancora rotto l'end La bedrock qua Dovrei anche quella lì romperla Magari Ok siamo in cima Adesso Andiamo in un'altra struttura Per lancio delle light Dovrebbe essere Quella forse è delle streghe Della farm di streghe E quella lì dovrebbe essere di slime Spero sia così Oppure il contrario Va proviamo ad entrare qua Vediamo se è quella di streghe o di slime Intanto non ho più enderperl Ok perfetto Vediamo un po' Ok sta generando E si è quella di slime Perfetto Questa è la farm di slime Che funziona con gli iron golem Cioè gli slime spawnono qua Perché sono degli slime chunk Vanno ad attaccare il golem Ma c'è il cactus che li blocca Ci sono due slime Ok Vediamo un po' qua Vuoto Mi sa che le avevo già raccolte tutte Infatti non ci sono slime Dovrò stare qua a FK Ad aspettare che la farm funzioni Infatti tutte le casse sono vuote Vabbè dopo l'episodio Magari mi metto a FK In questo punto qua Aspettare che spawnino E muoiano slime Ma per adesso faccio nell'altro sistema Qua c'è qualcosa Niente di che Quindi faccio il sistema del meccanismo Solamente con la redstone che scende Senza usare il blocco e il pistone E ci rivediamo tra poco Ragazzi mi sono ricordato Che c'è un altro sistema Per scendere con il segnale di redstone Sto usando gli observer Cioè mettendo un observer In questo modo qua Adesso vi faccio vedere Così No Al contrario In questo modo qua Così Mettiamo un blocco qualsiasi Così Così Ok No qua deve esserci l'observer Vediamo se riesco a farvi vedere Anzi Andiamo fuori E vi faccio vedere Ok eccoci Adesso vi faccio vedere Quindi come funziona questa cosa qua Se mettiamo dei blocchi così Ok E mettiamo un observer Che guarda verso l'alto E uno qui Poi uno diciamo ancora più sopra O così Possiamo scendere con il segnale In questo modo qua Cioè Facciamo una scaletta ancora Ecco Sto usando tutti i blocchi possibili Mettiamo una redstone dust qua Una redstone dust qua Questa cosa qua Cosa va a fare? Ogni volta che il blocco lì si aggiorna Lui invia un segnale E questo segnale qua A sua volta Fa attivare la redstone qua sopra Quindi anche lui invierà un segnale In questo punto In questo modo possiamo scendere verticalmente Con un segnale di redstone E arrivare fino qua in fondo Con un'attivazione Con un aggiornamento del blocco che c'è lì Quindi come facciamo a fare un aggiornamento del blocco che c'è lì? Facciamo una scaletta Ok Non è molto bella questa scaletta Ma fa niente Quindi adesso se siamo qua Aggiorno questo blocco qua Ad esempio rompendo la redstone Lì si accenderà La rompo E vedete che lì la redstone sotto si è accesa Quindi facendo questa cosa qua In verticale con gli observer Possiamo scendere E anche salire con il segnale In verticale Senza usare magari un giro tondo Di blocchi per sopra la redstone Quindi questo qua è un semplice metodo Per salire e scendere con la redstone Sfruttando gli observer Quindi andrò a utilizzare proprio questo metodo qua Adesso che ve l'ho spiegato Vado anche a farlo E ci si vediamo Finalmente a Progetto finito A dopo Ok ragazzi Ho praticamente finito Ho passato un bel po' di tempo E ho fatto anche delle modifiche Diciamo questo è il sistema Per scendere Con il trip over hook Con gli observer E qua siamo dietro Alla stanza Del autocrafting delle pozioni Ma da qua il segnale scende E arriva fino a questo punto qua Ho dovuto fare una piccola modifica Usando uno sticky piston E un blocco di redstone Appunto perché il segnale Che arriva fino a questo punto qua È impulsivo Cioè è solo di un tick unico E questo tick da solo Non riusciva a tenere accesa Questa striscia qua Infatti faceva una cosa del genere Adesso vi faccio vedere Faceva così E poi si rompeva subito Quindi faceva questa cosa qua Che a me non mi va bene Quindi adesso la spengo Ok Cosa è successo? Ah perché è nato in quel segnale lì Ok Vediamo se si spegne da solo Adesso infatti è acceso E vi faccio vedere Perché questo pistone intanto è ritratto Appena qua si spegnerà Questo pistone qua Si estenderà in questo modo Cosa serve quel pistone lì? Ve lo faccio vedere subito È il segnale Che viene dalla pressure plate Che oltre ad andare da quella parte Per far azionare questo E per far azionare il sistema sopra Va anche da questa parte A tutti i repeater Anzi ai dispenser che ci sono qua Ne ho messi anche da questa parte 3 di qua 3 qua È solo uno là sotto Quindi ce ne sono 7 Eccoli qua 3 3 E 1 7 Quindi questo pistone qua Fa in modo che il segnale Dà la pressure plate Passi a quella parte lì Oppure no E vi sto spiegando anche questo blocco qua Cosa mi serve Siccome questo segnale qua è impulsivo Quindi quando noi arriviamo sulla cordicella Sul trip o irook Al primo momento Questo pistone si estende un attimo E si ritira subito Quindi questo blocco qua Si troverà in questo punto qua Ma quando noi riclicchiamo sul letto Per andare sul letto Questo sistema qua Subisce un altro aggiornamento Perché il trip o irook Non è più abilitato Non è più alimentato E quindi qua arriva un altro piccolo segnale Che permette a un altro Un tick al pistone Quindi facendo un tick Non fa in tempo ritrarlo Il blocco Quindi si troverà in questo punto In poche parole Questo blocco qua Si troverà in questa posizione qua Per l'istante necessario Per attivare questa catena qua E poi quando andremo a cliccare sul letto Questo pistone Ritirerà di nuovo il blocco In questo punto Dovrebbe già funzionare tutto Adesso è in modalità morte Cioè se moriamo Vedete che questo Blocco qua Fa passare energia Mentre se arriviamo tramite Il primo trip o irook Questo sistema qua Sarà acceso Quindi questo pistone Sarà retratto E quando passeremo Sulla pressure plate Il segnale non arriverà Neanche ai dispenser Ma solo All'altra parte Cioè questa qua Che fa attivare il pistone Per farci saltare E questa parte qua sopra Che fa il sistema Di ritrazione Dei blocchi sopra Qua Ho abbassato Ho abbassato in un altro livello Perché prima era alto Fino qua E per poter mettere Tre dispenser Ho dovuto abbassare Tutta questa linea qua Di un po' Ho messo anche il nuovo sistema Con solamente la pressure plate Che va al blocco Quindi è indipendente Dal segnale sopra Adesso devo solo fare il sistema Che da questo punto Devo togliere questo E questo Così Ok Togliamo anche questo In questo modo E il segnale lo prendiamo da qua In modo che qua Posso mettere Questa cosa qui In questo modo La clay rossa E dovrebbe essere Tutto fatto Manca solo un sistema Di illuminazione qua dentro Che per adesso Ho messo le torce Ma mi sa che andrò a mettere Qualche pumpkin O qualche glowstone qua dentro Adesso vediamo Dovrebbe funzionare Salto da questa parte E salto qua sopra Cosa ci dovrebbe spingere E poi far saltare in alto Ok Adesso il sistema Dei dispenser È funzionato Perché naturalmente Eravamo già giù Ma se noi dovessimo andare Da questo punto qua Adesso non è notte Perché i coincidenti qua Sono giù Aspettiamo che sia notte Vediamo un po' quanto manca Come minimo è mattina presto Dov'è? È infatti Non è neanche mezzogiorno Come sempre Quando vogliamo che sia notte È giorno E quando vogliamo che è giorno È sempre notte Però in teoria Il sistema dovrebbe funzionare Adesso chiudo tutto Con la lana Qui e anche qui Così noi quando andiamo Sul letto Da questa parte Passeremo su questa cosa qua Questa cosa qua Cosa ha fatto fare? Ha fatto posizionare il blocco Indietro In modo che I comparatori si siano attivati Noi quando andremo a cliccare sul letto Quindi andremo via Da questa stringa Il blocco ritornerà avanti Quindi i comparatori Inizieranno il Candown Possiamo così chiamare Così che il nostro tempo Per dormire Sia sufficiente E solo dopo che siamo Tornati qua in alto Col blocco Ritorni in posizione Per poi Un'eventuale morte Ed attivare I dispenser Quindi adesso aspetto Che si faccia notte Intanto vado a rifornire I dispenser Con il nostro Secondo equipaggiamento Quindi ci metterò Tutta l'armatura completa La spada L'arco Che mi son preso Anche un arco Dalla farm D'occupaggiamento Che dovrebbe essere Qua dentro Eccolo qua Tutta questa cosa qua Tranne l'elitra L'elitra Lo lascerò Magari nella ender chest Oppure faremo Mettere l'elitra Invece della diamond chest plate Una di queste due cose Ci andrò a mettere Adesso per provare Magari ci metto l'elitra E vediamo se tutto funziona Intanto aspettiamo la notte E ci sentiamo tra poco Ok ragazzi È notte E intanto mi sono fatto Un po' di risposte Ai vostri commenti Nel frattempo Che aspettavo Che fosse notte Quindi saliamo in questo punto Saliamo sul letto Non finisco di dormire Perché voglio mantenere Ancora la notte E ci manda via Ma ci è redatto Tutto l'equipaggiamento Cosa che non va Tanto bene Allora andiamo a vedere lì Il meccanismo Scendiamo da questa parte Vediamo un po' Perché ha fatto questa cosa Cosa è successo? Ok scendiamo di qua Il blocco si trova In questo punto Ok Quando noi saliamo lì Dovrebbe spostarsi In questo punto qua E questo Ritirarsi in teoria Non ha fatto così Faccio un'altra prova Quindi risalgo E vediamo un po' Se riesco a salire Da qui Così Ok perfetto Quando vado qua Quel blocco dovrebbe essere spostato E acceso I comparatori Vado subito a vedere velocemente Invece no Perché non ha funzionato? Perché non ho messo la redstone qua Bene Mi manca anche la redstone Non l'ho messa in questo punto qua Sopra la faccia dell'observer Lo faccio subito Eccomi con il pezzo di redstone Andiamo da questa parte A metterlo qui E dovrebbe funzionare Vedete che l'ha ritirato Ma noi adesso non serve Che sia ritirato Vai pure qua E dovrebbe essere tutto pronto Perché deve stare in questo modo qua Così almeno al prossimo aggiornamento Verrà questo E al prossimo ancora si risposterà Non deve stare attaccato Non deve partire attaccato Perché se no funziona al contrario Adesso torno qua Rimettiamo la lana Non era qui Era indietro di uno In questo E questo punto Ok È ancora notte Ho tutto l'equipaggiamento con me Ma vediamo se sentiamo il tick Quindi salgo qua Dovrebbe aver funzionato tutto Dormo E Mi alzo la letta senza far finire Non partono i dispenser Quindi perfetto Adesso vado ad aggiungere l'armatura E poi mi svuoto tutto l'inventario E vediamo se mi equipaggia Se muoio Quindi questo lo rimetto qua Perché l'ho rotto per sbaglio Vado giù da questa parte E dovrebbe esserci un'apertura qua Se non la facciamo noi Ok Qua ho notato però che Quando si apre È tutto aperto Perché manca un blocco qua Da questa parte c'è Sì Ok Dovrebbe essere a posto C'era solo questa apertura Che avevo notato nel cadere E adesso andiamo a mettere Le cose qua dentro Quindi mettiamo le scarpe L'elmetto Le leggings Ok E l'altra Qua mettiamo la spada L'arco E qua una freccia Così siamo già equipaggiati Non ho messo il piccone La parla le altre cose Appunto perché Ci serve per combattere Magari E non per andare a minare O altro Se dovessimo andare a minare Prenderemo gli attrezzi Da quel punto Mi manca una Red stand clay Che vado a prendere subito E poi proviamo finalmente Il tutto Ok Anche la clay è messa Quindi dovrebbe essere tutto pronto E anche l'equipaggiamento È dentro Quindi se vado a questa parte Mi sdraio Mi alzo dal letto Non dovrebbe equipaggiarmi Perfetto ragazzi Niente È stato spustato Dai dispenser Adesso facciamo una cosa Mi vado a creare una chest Svuoto tutto E vado a morire fuori Quindi vediamo di prendere una chest Dovrebbe essere qua Non c'è Qui forse C'è qualche chest In questo punto Eccolo qua Una chest qua E mi svuoto tutto l'inventario E voglio vedere se mi riequipaggia Con le cose nuove Lo lasciamo qui davanti In questo punto qua Ok Completamente svuotati Non ho niente addosso Vado magari a soffocare O da qualche parte Vediamo se è notte Anzi è notte Perché stiamo dormendo Quindi ci facciamo uccidere Da qualche zombie Scheletro non creeper Possibilmente Guardate ragazzi Quando vogliamo i mob Non c'è assolutamente nessuno Anche se è notte È la legge di minecraft Ok Uno scheletro Mi faccio uccidere da questo qua Se riesce a uccidermi Ehi Uccidimi Perfetto Ok Dovremmo risponare lì Perché abbiamo dormito In quel letto l'ultima volta E eccolo qua Perfetto La prova ragazzi Facciamo un bel respawn E dovremmo uscire Da questo punto Con l'equipaggiamento Perfetto ragazzi Siamo equipaggiati Quindi il letto ha rilevato Che noi eravamo morti E non ci eravamo andati A dormire noi da soli E mi è rilascio tutto L'equipaggiamento Perfetto E direi che anche questo progetto Che sinceramente mi piace molto Si può considerare completato Scrivetemi voi nei commenti Cosa ne pensate di questo progetto qua E anche questo episodio Può finire qui Quindi come sempre Lasciate un bel mi piace Se vi è piaciuto questo episodio Commentate consigliando Nuovi progetti da fare In questa serie qua Io come sempre sono Suri Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti